Oggi siamo al Teatro Civico 14 e siamo con un ospite d'eccezione che è Daniela Ioya che sarà in scena sabato 18 e domenica 19 proprio qui. Intanto Daniela grazie per naturalmente aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, grazie a voi e buonasera, buonasera a tutti. Allora, Mamma Ma è lo spettacolo che andrà in scena, porterà in scena qui al Teatro Civico. È un monologo, un monologo molto particolare perché parla di un periodo della vita di una donna che è quello della gravidanza. Il personaggio del protagonista del mio monologo è Enza Amato ed è una giovane di oggi, quindi una ragazza trentenne alle prese con un test di gravidanza. Quindi nel momento in cui si accinge a fare questo test di gravidanza le si presenterà davanti uno scenario alquanto preoccupante perché avrà davanti a sé la visione di queste tre future mamme. E quindi è un racconto molto divertente, però allo stesso tempo ci invita a riflettere. Cioè è una comicità non banale, che è poi la caratteristica di Massimo Andrei, che è l'autore appunto del testo e quindi è da vedere, è veramente da vedere. A chi lo consigli? A tutti, perché è un tipo di teatro trasversale, nel senso che può interessare sicuramente all'universo femminile, perché è il protagonista. Però assolutamente anche agli uomini, che possono capire un po' esatto il nostro mondo, ma anche ai bambini, perché è una comicità molto diretta, molto semplice e quindi piace veramente a tutti. Ecco, mi piace raccontare un episodio particolare, o meglio un momento della tua vita, perché la volta precedente, quando tu hai portato in scena questo monologo, avevi saputo poi che eri incinta e adesso hai un bambino. Quindi che cosa cambierà sulla scena? Guarda, in realtà è cambiato quasi tutto subito, nel senso che è stata una cosa alquanto buffa quella che è successa. Io ho debuttato l'anno scorso a Napoli con questo testo e dopo neanche ero in prova, praticamente ho scoperto di essere veramente in attesa di mio figlio. Quindi è cambiato tutto, improvvisamente quello che dici assume un peso totalmente differente. Perché l'hai vissuto? Lo vivi, quindi ne hai la percezione. Quindi è stata una situazione molto particolare, però allo stesso tempo divertentissima. Cioè, quelle classiche cose che ci pensi e ridi da sola, che c'è, non è possibile. Allora, ricordiamo sabato 18 e domenica 19, ricordiamo anche gli orari sabato alle 20 e domenica alle 19. E volevi aggiungere qualcosa? No, assolutamente, semplicemente venite perché chi non viene è veramente una persona triste, voglio dire. Cioè, la vita... Noi abbiamo destato curiosità e sicuramente ne saranno in tanti, vi ricordo qui al Teatro Civico, 14 a Caserta. E parliamo un po' di Daniela Ioia. Tra l'altro so che tu hai anche interpretato, sei stata anche interprete di Gomorra, la serie... La quarta stagione, sì. È stata veramente una bellissima esperienza. Ho interpretato il ruolo di Tiziana Palumbo, che è l'amministratore delegato, diciamo, che affianca Jenny per un periodo, che lo aiuta a realizzare quello che è l'aeroporto e quindi, diciamo, l'aspetto un po' imprenditoriale di Gomorra e della vita di Jenny Savastano. Quindi, poi tutti quanti mi declassano, dicono, la segretaria di Jenny, no, io sono... Diamo il giusto nome e sono l'amministratore delegato, voglio dire. E quindi, sì, è stata una grande esperienza. Gomorra è una bellissima famiglia. Salvatore Esposito è... Sicuramente continuerà la quinta stagione, già la stanno preparando. Bisogna seguire, bisogna seguire per capire. Ti seguiremo. E poi il sindaco del Rione Sanità. Prima è stato un grande spettacolo a teatro, poi al cinema. Tu sei stata protagonista anche al cinema. Sì, sì. Il sindaco del Rione Sanità è stato qualcosa di indescrivibile, perché poi l'esperienza a Venezia è veramente meravigliosa. E poi il personaggio che interpreto, che è quello di Armida Barracano, che è la moglie del sindaco, è un personaggio che ho amato da subito, è un personaggio di poche parole. Però lei è... io la paragono sempre un po' al Vesuvio. Tu non la senti, perché... però sai che è lì, è sempre presente. Ha una presenza molto ingombrante e decisiva, anche se è di poche parole. E lei è un po' così. E poi, diciamo, l'esperienza cinematografica mi ha dato l'opportunità di dare al personaggio di Armida quelle sfumature che a teatro, data la distanza col pubblico, magari non sempre riesci a dare. Ovviamente tutto questo è stato possibile grazie alla delicatezza e alla poesia di Mario Martone, che è un regista, secondo me, veramente top. Curiosità, come hai iniziato? Io ho iniziato come quasi un po' tutti, facendo gli spettacolini in una piccola compagnia del paese, da dove vengo. Poi ho capito che questa cosa mi piaceva più del dovuto e quindi ho cominciato a studiare. Ho studiato un po' a Roma, un po' a Napoli, vari laboratori e fino a quando poi ho cominciato con le prime esperienze lavorative. Allora, Daniela, noi ti ringraziamo, ti salutiamo, naturalmente in bocca al lupo per tutto, per lo spettacolo del 18 e 19 e anche per la tua vita. Grazie, grazie veramente di cuore. Io vi aspetto, è inutile dirvelo, che vi aspetto tutti. Allora, ricordiamo ancora, sabato 18 e domenica 19 qui al Teatro Civico 14 a Caserta. Arrivederci. Grazie a tutti.